Il mondo è cambiato perché adesso se vuoi iniziare gli investimenti che devi fare sono molto più importanti. All'epoca io mi ricordo il primo anno che ho corso a V14 anni mi avevano mandato, ora non faccio i nomi dei brand, ma mi avevano mandato brand top, la tuta gratis, i caschi, i visieri, tutto necessario per correre, anche se era un signor nessuno arrivato dalle minimoto che faceva la sua prima gara di Coppa Italia. E avevo tutto il materiale, tutto è gratuito e addirittura se lo sbaglio avevo anche qualche piccolo bonus se facevo dei podi e tutto. Adesso come ben sai anche se fai il mondiale a volte fai fatica ad avere il materiale gratis, quindi è cambiato veramente tutto purtroppo, ma questo un po' riflette anche il mondo in cui viviamo adesso. Questo è Razers, un podcast di Riccardo Ciotti prodotto da Giaga Pubblicazioni. Se vuoi puoi trovarci anche sui nostri canali social. Buon ascolto! Niccolò, ben trovato. Ciao, ciao a tutti, benvenuto. Allora, come ti raccontavo inizialmente, insomma noi cominciamo sempre raccontando la storia dall'inizio, quindi dove nasci, in che ambiente familiare, amicizie, insomma com'è la tua infanzia prima di arrivare alle moto. Allora, io inizio diciamo che con mio papà che aveva una passione enorme per le moto, ha sempre fatto tutt'altro. L'anno che sono nato io si è comprato la prima moto, io sono nato a Genova nell'88 e lui si è comprato questa moto, quindi sono cresciuto da bambino piccolo che lo andavo a vedere, l'accompagnavo così alle sue uscite in pista, a gare amatoriali, così. E quindi ho iniziato un pochino a insistere, no? A dire, ok, mi piacerebbe provare, mi piacerebbe provare, come fa un bambino di pochi anni. E allora lì, quella è stata la prima volta, ho portato una volta da concessionario, c'era una mini moto lì, sono salito e, diciamo, ho dato gas, mi sono cappottato subito, però è stata la prova del fuoco perché ho voluto risalirci subito, no? E quindi mio padre ha capito che gli piace, perché c'erano due strade, o mi spaventavo, è finita, oppure sarei voluto tornarci sopra. Un po' come la prova dell'acqua, insomma. Esatto. Subito in acqua. Subito in acqua, esatto. E così, diciamo, è nata la mia passione. Poi dopo, quando avevo, questo avevo tre anni, ero piccolissimo, ho preso un minicross, abbiamo iniziato così, qualche volta mi portava a qualche piazzale, così, per provare. E poi a nove anni ho iniziato con le mini moto, ho iniziato il campionato mini moto, compagno di squadra del ben più esperto di me, Zanetti, che era un anno più grande, semplicemente, ma quindi avevo iniziato un anno prima. E abbiamo iniziato così, erano degli anni in cui le mini moto erano campionati tostissimi, perché a parte, chiaramente, Zanetti, che ho conosciuto, c'erano i vari Dovizioso, Simoncelli, Pasini, Corsi, tutti i piloti che poi sono arrivati in qualche modo al Mondiale, al Moto Mondiale, hanno vinto dei Mondiali, sono arrivati in MotoGP, quindi tutti i piloti di alto livello. Puoi immaginarti la competizione che c'era in quegli anni lì. Ed era bellissimo, perché poi è bello, perché in tanti abbiamo preso delle carriere, magari anche un po' diverse, non tutti uguali, però poi ci siamo ritrovati a correre insieme un anno prima, un anno dopo. In una categoria piuttosto che l'altra. Esatto, esatto, esatto. Hai accenato delle mini moto, perché questo è un argomento che abbiamo trattato più volte, che oggettivamente negli ultimi anni c'è stato un calo dei ragazzini che vengono messi sulle moto, e quindi comunque sto notando una difficoltà a creare una nuova generazione, con l'esperienza delle mini moto, perché ovviamente cominciano, continuano e i piloti escono, ovviamente. Però sembra non esserci più tutta quella categoria che avete caratterizzato voi, perché in realtà siete l'ultima generazione delle vere mini moto che è arrivato poi a un futuro, insomma a una carriera. Per cui hai fatto dei nomi che ha fatto Lorenzo, sono i stessi quattro poi che ha fatto Lorenzo, perché sono i primi che vengono in mente. Soltanto che adesso con queste nuove ovale, piuttosto che bucci che siano insomma a 12 pollici, in moto, in moto così, sembrerebbe proprio cambiato l'approccio al motociclismo sin da piccoli. Che a detta di Davide Giuliano, ad esempio, che è venuto al nostro ospite un pochino di tempo fa, la mini moto comunque è una categoria a sé che ti prepara in maniera differente, cioè non c'è nulla che può sostituirla nella preparazione. Secondo me il discorso è che eravamo obbligati a correre tutti lì, quindi alla fine la selezione era più semplice, perché comunque non essendoci altre categorie, 300 categorie, tipi di moto diverse, più grandi, più piccole, tutto, o facevi mini cross, o facevi mini moto e non ti sbagliavi, capito, quello dovevi fare, dovevi passare da lì per forza. E poi da lì la strada diventava, o andavi a fare un campionato con i 125 e il 99% delle persone facevano quello, e io ho preso una strada un po' diversa perché ero già un cinghiale praticamente da ragazzino, e quindi ci hanno chiesto dei budget incredibili per correre, ad esempio, nel campionato spagnolo 125, che è quello che un po' succede un po' adesso, mentre ho avuto l'opportunità di salire su un 600 di un team che mi ha detto, vuoi provare il 600? Giravo con il 125, mi hanno visto, secondo loro andavo veloce, ho detto, vuoi provare la moto? Erano altri tempi dove giravano anche un po' più di soldi, era un pochino più facile, e io a 13 anni ho provato questa 600, sono salito sul 600 e mi è piaciuta da subito. E da lì il team mi ha detto, ok, possiamo, ci possiamo farti correre, esatto, e quindi l'età minima per correre a 14 anni, io a 14 anni e tre giorni ho fatto la prima gara sul 600, che era una follia per l'epoca. Esatto, per l'epoca, adesso tanto tanto, ma... Ho fatto la strada classica della 125, i motori piccoli, insomma. Esatto, e sono passato subito ai quattro tempi, perché si sapeva che sarebbe nata dopo qualche anno la moto 2, comunque si sarebbe andato nella direzione dei quattro tempi, poi la moto 3, in ogni caso adesso sono tutti i quattro tempi, non le moto? Tra l'altro. E quindi ho iniziato subito così, anche se davano tutti del matto a mio padre, era una situazione un po' strana, perché dici, metti un bambino sulla 600, era una follia. Tra l'altro le moto erano anche un po' più grosse di come sono adesso, più pesanti e tutto. E quindi abbiamo iniziato così. Il mondo è cambiato, perché adesso se vuoi iniziare adesso, diciamo, gli investimenti che devi fare sono molto molto più importanti. e all'epoca, io mi ricordo, il primo anno che ho corso, avevo 14 anni, mi avevano mandato, ora non faccio i nomi dei brand, ma mi avevano mandato brand top, diciamo, la tuta, gratis, i caschi, visiere, tutto necessario per correre, anche se era un signor nessuno, arrivato dalle mini moto, che faceva la sua prima gara di Coppa Italia. E avevo tutto il materiale, tutto è gratuito, e addirittura se lo sbaglio avevo anche qualche piccolo bonus, se facevo dei podi e tutto. Adesso, come ben sai, anche se fai il mondiale, a volte fai fatica ad avere il materiale gratis, quindi è cambiato veramente tutto, purtroppo. Ma questo un po' riflette anche il mondo in cui viviamo adesso, con la crisi economica che c'è stata, e tutto, si capisce che è un momento un pochino più difficile, no? E quindi chiaramente adesso si cerca più di chiedere i soldi al pilota, ai genitori del pilota, chiaramente cambiano i valori in campo e cambia un pochettino tutto quanto. Non c'è più quella selezione puramente naturale, determinata, diciamo quasi esclusivamente dal talento. Esatto, esatto, esatto. E mi ricordo c'erano tanti, anche in mini moto, c'erano tanti piloti già con degli sponsor, sponsorizzati, con team importanti, già nel campionato mini moto. Per cui figuriamoci a salire la scalata. Esatto. Quindi tu cominci con i quattro tempi, sul 600 Coppa Italia. Sì, e rimani nel campionato italiano. A Vallelunga, quindi siamo in zona. A Vallelunga, tra l'altro te poi sei col motoclub, col gente del motoclub da tantissimi anni. Da quegli anni lì, sono stati i primi matti a farmi la licenza. E lì sei rimasto. Esatto, esatto. Da Genova a Roma. E poi come si è evoluta? Nel senso, sei rimasto nel campione italiano, sei passato a una categoria superiore. Di che anni parliamo? Innanzitutto 13 anni, quindi 2011, 12. Allora, sì, 13, 14 anni, sì. No, era prima. No, scusa. 2002. Esatto, bravissimo. Sembra un sacco di tempo fa. Eh, infatti in generale ci avevo pensato. Praticamente poi dopo nel 2005 sono passato a fare il campionato europeo nella Stock 600. Ok. E ho corso con Kawasaki, sono andato bene, ho fatto mi sembra quarto alla fine del campionato e Ducati mi ha visto e ha detto ci piacerebbe che facessi esatto la Stock 600, l'europeo, con noi. E lì è stata una bella stagione, il peggior risultato che ho fatto è stato il secondo, facciamo primo, secondo, primo, secondo e mi alternavo con Savi e Simeone, un belga che poi ci siamo incontrati tante volte nella carriera, ha corso anche in MotoGP, mondiale Endurance. Lo conosco bene, ma io me lo ricordo quando facevo la coppia con te, ho il team Xerox dedicato in Stock 1000, io l'ho conosciuto sportivamente parlando. Bravo. Simeone. E lì praticamente alla fine della stagione non sono riuscito a vincerlo perché ho avuto un incidente a Imola nell'italiano e mi sono rotto il polso, ho saltato le ultime gare. Però nel frattempo tutto l'anno Ducati, quella è stata la cosa un po' strana di come è iniziata, la mia carriera è un po' atipica, molto strana, perché ho fatto un po' tutte le categorie, ho provato un sacco di moto, ho fatto un sacco di cose diverse e sono stato il primo a fare un sacco di cose, come il primo a correre sulla 600, sono stato anche il primo ragazzino a fare il collaudatore da subito, perché Ducati mi ha fatto provare da subito le moto di produzione di serie. Io mi ricordo, correvo nella Stock 600, quindi ero ragazzino, 2006, e mi hanno iniziato a far provare la futura moto che sarebbe uscita, che era la 1098, quindi giravo al Mugello con questa moto tutta camuffata, di cui non potevo raccontare nulla, e ho iniziato a girare con questa moto, a girare forte, perché rispetto ai tempi che si facevano con la 999, magari si girava due o tre secondi al giro più veloce al Mugello, e quindi c'è stato un sacco di attenzione, mi ricordo che una volta è venuto giù domenicali, è venuto giù a vedere i test, addirittura abbiamo girato insieme, si è messo la tuta e si è iniziato a girare anche lui, esperienze bellissime, e già da piccolo ho iniziato a lavorare con degli ingegneri top, perché lavoravo con gli ingegneri responsabili dello sviluppo di una moto di produzione, di una chicca, di una moto che è stata rivoluzionaria per Ducati, e lavora a stretto contatto con loro, ti insegnano tantissimo, impari tantissimo, io sono sempre stato anche un po' curioso di tutte queste cose, dell'analisi dei dati, di tutta la parte un po' più tecnica della moto, e allora abbiamo iniziato, ho iniziato a crescere, a migliorare tanto, e da lì hanno iniziato a darmi, parallelamente alla mia carriera sportiva, mi facevano sempre provare una moto di un livello superiore, quindi se correvi Stock 600 mi facevano provare Stock 1000, l'anno dopo sono andato in Stock 1000 mi facciano provare la Superbike, e dopo la MotoGP, è iniziato pian pianino così, e dal punto di vista sportivo l'anno dopo, dopo ho fatto secondo, ho passato tutto l'inverno, ho fatto un'operazione al polso, è stato molto difficile, perché ho avuto dei problemi, adesso si vede che non è bellissimo il polso, però all'epoca era, non si sapeva se sarei riuscito a tornare, esatto, quindi è stato un inverno un po' difficile, sono salito su questa moto, che però avevo sviluppato io, sapevo che sarebbe andata bene nella Stock 1000, e ho detto voglio provare a far bene, e la prima gara è stata incredibile perché ho vinto a Donington, e da lì poi sono riuscito a vincere il campionato Stock 1000, che è Coppa del Mondo, ed è stato il primo grande successo, e in quella stagione lì la cosa bella è che mi facevano collaudare la Superbike, quindi tu correvi una Stock ma collaudavi la Superbike, esatto, ed erano i primi anni della mia carriera, quindi già se ci pensi, è nato tutto da dire, quello è il folle che corre sulla 600 a 14 anni, a trovarsi a 17, aver vinto la Coppa del Mondo, e collaudare la Superbike, e quindi è stato un po' dei passi molto veloci, e praticamente lì inizia un po' la parte un po' più critica, perché diciamo che Ducati mi aveva promesso, anche da contratto, che avrei fatto il Mondiale Superbike se avessi vinto la Stock, poi dopo in quegli anni lì è stato un po' complesso, e lì capisco le scelte di Ducati, perché è arrivato Viaggi nel frattempo in Ducati, e quindi non c'era più la moto per me, per correre, bravissimo, io avrei avuto una moto alla pari di quella ufficiale in un team satellite, però non era possibile, perché chiaramente è arrivato Max, e Max chiaramente arrivava dalla GP, non ha bisogno di presentazioni, quindi giustamente la moto è andata a lui, e io sono rimasto un attimo così, ero sicuro di fare la Superbike, invece mi ricordo una mattina di dicembre, quindi abbastanza tardi, mi chiama domenicali, mi dice, senza tante giri di parole, dice, visto che non puoi fare la Superbike, che già questo è sufficiente, esatto, ci piacerebbe che facessi il collaudatore della MotoGP, e da un lato è una cosa, dici, fighissimo, ai 17-18 anni, fare il collaudatore della MotoGP è una roba pazzesca, dall'altro dici, cavolo, appena vinto, io voglio correre, vuoi correre, vuoi continuare, ti piace la vittoria, ti piace quel feeling di quando vinci, e sapevo che avevo fatto tanti test con la Superbike, era andato forte, e avevo fatto tutti i test con tutti quelli della Superbike, avevo fatto il terzo tempo a Vallelunga, però era quarto, quinto se non sbaglio, Bayliss, quindi comunque avevo fatto dei tempi buoni. Tu hai ricorso a Vallelunga? No, alla fine no, alla fine no, poi ti racconta che quello è l'anno dopo, e alla fine o accettavo o accettavo, e quindi sono andato a fare il collaudatore della MotoGP nel 2008, ed è stata anche lì alla fine col segno di poi, è un'esperienza che mi ha insegnato tantissimo, perché se da un lato non correvo, dall'altro ero da solo a fare dei test, con un test team incredibile, era test in Bridgestone della MotoGP, e quindi non provavo parte della moto, ma provavo le gomme, quindi andavamo in tante piste, prima del campionato del mondo MotoGP, magari due o tre settimane prima, piste in esclusiva, due giorni, e giravo, e di chilometri, 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 e praticamente facevo un pochino di setting all'inizio, e poi si inizia a provare gomme a nastro, tutte gomme, quelle che mi piacevano di più, facevo due o tre simulazioni gara, che era massacrante, già la MotoGP ha tanto fisica da guidare, e tutto, poi facevi due o tre simulazioni gara al giorno, e selezionavi le gomme, che poi avrebbe usato Stoner, Melandri, e i piloti diciamo Ducati, due o tre settimane dopo, nel Gran Premio, quindi era anche una responsabilità importante, ma la cosa bella è che si potevano comparare i tempi, perché visto nell'arco di due o tre settimane, diciamo, le condizioni meta erano abbastanza simili a quelle della gara, e quindi si potevano comparare i tempi con quelli che poi facevano i piloti nella MotoGP, e quindi era figo, la moto che era uguale a quella Fartori, e quindi è stata un'esperienza bellissima, anche se a volte era strano dovere, eri da solo in pista, spingere come se stessi facendo una gara, ti stessi giocando alla tua carriera, perché alla fine così era, per tre simulazioni di gara di fila, da solo, e trovare le motivazioni fisicamente massacrato, perché sapevi che dopo avevi il confronto con i piloti della MotoGP dopo due o tre settimane, quello è stato bello, è stato un lavoro molto nell'ombra, ma secondo me i Ducati sono stati molto contenti del lavoro fatto, ed è per quello che poi mi hanno fatto di correre in MotoGP l'anno dopo, ed è follia se ci pensi, nell'arco di tre anni, quattro anni, dal nulla sono arrivato ad apportare in MotoGP. Esatto, che poi quello è un periodo che io mi ricordo benissimo sportivamente, e ci si chiedeva in tanti, io me lo sono chiesto lì per lì, ce lo stai raccontando adesso, perché è andato in MotoGP quando oggettivamente stoccava fortissimo? Io mi ricordo, c'è qualche video su YouTube, una tua qualifica, forse da Wildcard, con Team Xerox, mi viene Borno, ma Borno, bravissimo, sì, bravissimo. Hai fatto paura, ho quei video bellissimi da vedere, ce ne sono tre o quattro nella storia del mondiale degli ultimi vent'anni, che la pole di Chionaria a Donington sotto l'acqua, un Ben Bostrom a Valencia da 2000 e la tua. Grazie mille. E però poi ti dici, va fortissimo, un superbike che potrebbe fare tantissimo, perché il pensiero mio era quello, l'anno dopo non corre, perché poi la figura del collaudatore oggettivamente ha preso piede a livello mediatico adesso, è sempre stata fondamentale, sia chiaro, però il collaudatore era un pilota che stava finendo la carriera, finendo la carriera, o comunque si era dedicato al collaudo, nell'ombra, facciano poche Wildcard, c'erano i giapponesi, nelle piste giapponesi, ma non mi ricordo queste Wildcard di Guareschi, e quindi tu stavi lì che facevi i chilometri, preparavi la moto poi che sarebbe andata poi nel giro di un paio d'anni a Valentino Rossi, perché poi quello è stato, quindi sono gli anni di preziosi. Bravissimo, bravissimo. E diciamo perché? Perché? Ecco perché. Sì, diciamo che sono state scelte un pochino obbligate, Ducati aveva la volontà di tenermi, aveva il contratto dalla parte sua, e ha visto che c'era del talento in me, che c'era del potenziale, però non si sono mai incastrate le cose per andare in superbike, è chiaro che la scelta naturale sarebbe stata quella di andare in superbike, perché già conoscevo la 1998, l'avevo fatta come piaceva a me, e anche il superbike, mi ricordo avevo fatto il record della pista al Mugello, ero andato forte, tutto sempre nell'ombra, chiaramente, tutto sempre in pista esclusiva da soli e tutto, però i tempi c'erano, ma non c'era la sella disponibile, non c'era la possibilità di correre, e quindi mi hanno tenuto, ma mi hanno trovato delle soluzioni alternative. Per dopo non mi posso lamentare di essere stato in MotoGP, anche se è stato un anno difficile sicuramente, la moto non era la Ducati di Pramac, dell'epoca non era la Ducati Pramac di adesso, decisamente, il team anche, e quindi è stato sicuramente molto molto difficile, ma comunque riuscire a fare un paio di top ten in MotoGP in quegli anni lì, non era male, è stata un'esperienza, se ci pensi, tutta la mia carriera fino a quel momento lì è stata abbastanza, non voglio dire facile, ma con i risultati che sono arrivati subito, dalla Stok 600 alla Stok 1000, ho vinto subito, vado a provare la Superbike e faccio il raccord della pista, fai il collaudatore, tolto Stoner che andava fortissimo, ero più veloce degli altri piloti Ducati in quel momento lì, quindi diciamo avevo tutto abbastanza facile, arrivi in MotoGP e si prende le bastonate vere, e lì è stato veramente impegnativo in certe gare, però in altre gare sono riuscito comunque, considerando la giovane età, la mancanza di grande esperienza, a fare dei risultati non male. Abbiamo visto con Digia quest'anno che ti serve un po' di tempo, ma quando poi riesci a capire la moto riesci magari a fare il click, non tutti ci riescono, però a chiunque, anche a Petrucci stesso, gli è voluto un po' di anni prima di riuscire ad andare forte, e poi ha vinto anche delle gare MotoGP, quindi quello che è mancato a me è fare un secondo anno secondo me MotoGP, perché il primo anno non conoscevo 8 delle 16 o 18 gare che facevamo, e quindi in alcune piste è stato veramente difficile, mi ricordo, sono arrivato a MotoGP per la prima volta, è stato un trauma incredibile, la seconda gara della stagione, mai vista la pista, tifone durante le prove del venerdì, quello classico, esatto, classico, quindi bagnato, poi hanno cancellato delle prove perché la pista era troppo allagata, mi sono ritrovato in gara, avevo fatto dieci giri sull'asciutto prima, entri in gara con questi mostri sacri secco e con Valentino, con Argo Lorenzo, con dei piloti, pazzo stoner, c'è una generazione pazzesca, ti ritrovi lì con loro, è normale che ti massacrano perché già è una moto che faceva fatica, e in più non conosci la pista, hai fatto dieci giri sull'asciutto in quella pista lì, cioè non c'è proprio speranza, e quindi è stato delle gare difficili, delle piste invece dove conoscevo un po' mai, io sono riuscito a fare bene, sacco di cadute, di traumi cranici, di fratture di tutto, perché poi è chiaro che quando sei lì, sei giovane, non hai paura di niente, vedi Stone che fa quelle cose, le vuoi fare anche tu, e ci provi, ti passa, dice la moto è uguale, non ci sono scuse, la moto è quella, perché lui fa quello, e vi passava, lo segui, ci provi, magari due curve gli sta attaccato e dici sì, dai, dai, alla terza, vai nell'imperspazio, è così però, esatto, è bello perché anche confrontarsi con dei fenomeni che sono stati, come quelli di Stone, di Lorenzo, di Valentino, nella stessa pista, nello stesso momento, è stato qualcosa di incredibile che ti fa veramente capire il livello che c'è nella MotoGP, che c'era all'epoca e che c'è anche adesso. Te lo ricordi il giorno che hai provato per la prima volta una MotoGP? Me lo ricordo, me lo ricordo bene, era ancora il 2007, quindi correvo nella stock, facevi collaudi della superbike, mi ricordo che Guareschi era caduto e si era fatturato il coccige, e loro solo che dovevano provare dei componenti importanti della MotoGP da introdurre la gara successiva, e mi hanno detto, guarda, ti va bene per te sospendere i tasti a superbike? Per fare con i MotoGP? Ed è, vedi te, me lo chiedi? No, no, grazie. Esatto, e quindi sono salito su questa MotoGP che era una moto laboratorio e addirittura preziosi lì all'epoca si era inventato il sistema, stavano operando questo sistema, che era assurdo, che poi non è andato in gara, dove praticamente la moto, quando toccava il freno, per risparmiare sui consumi, si spegneva, perché diciamo che il problema grosso era, che ancora adesso è un po' così, diciamo, il serbatoio ha una capacità limitata, chiaramente più potenza ha la moto, più consuma, e quindi si cercava un modo per risparmiare sui consumi, e preziosi aveva inventato questo sistema, dove praticamente frenando la moto si spegneva, quindi tu arrivavi in fondo al, immagini, il rettileo del Mugello, le 800 facevano già 3,40, mi ricordavo ho fatto 3,42 al Mugello, arrivi a 3,40, tocchi il freno, silenzio, scali le marce, stac, 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 entri alla San Donato, quando hai finito di volare il freno, la moto riparte, però era una cosa talmente assurda, talmente difficile da capire, e quelli sono stati i miei primi giri sulla MotoGP, quindi puoi immaginarti, non facile, e infatti era andato, il primo giorno era andato più forte con la Superbike e con la MotoGP, perché un mondo talmente diverso, una moto talmente rigida, diversa da guidare, difficile, e anche adesso è così, che ti ci vuole del tempo per abituartici, infatti vedi anche il top rack della situazione, che è un mattatore in Superbike, arrivato in MotoGP, si è preso un paio di secondi subito, perché non è facile adattarsi subito a delle gomme diverse, una moto molto rigida, poi chiaramente potenze diverse, quindi è stato un po' difficile, il secondo giorno invece è iniziato a prenderci gusto, ho già migliorato i tempi, ed è stato bello, sì. Leggendo in giro, si parla sempre di questo grande impatto che hanno i piloti che provano la MotoGP per la prima volta, soprattutto sui freni, questi freni in carbonio, che adesso non so di l'ultimissima generazione, ma dieci, poco più anni fa, quando provo le prodotte, è vero che c'è una differenza proprio percepibile sul modo di frenare, cioè va cambiato il modo di... Sì, praticamente va cambiato, soprattutto all'epoca, non so adesso, perché è un po' che non provo una MotoGP, però sì, bisognava cambiare il modo di frenare, perché dischi in acciaio, diciamo, nel momento in cui tu freni, ti danno la massima potenza frenante, e più che tu continui a frenare, una frenata lunga, ad esempio un sesta prima, magari a volte calano un pochettino la potenza frenante, man mano che ti avvicini verso la curva, perché si surriscaldano, e quindi i dischi in carbonio funzionano esattamente all'incontrario, quindi non hanno la temperatura necessaria, la maggior parte delle volte, soprattutto in condizioni un po' più fredde, no? Chiaro, se andiamo a Misano ad agosto, no, però in condizioni un pochino di temperature un po' più fredde, non hanno la temperatura necessaria al primo attacco del freno, quindi il primo attacco del freno non è così potente, ma man mano che freni, frenano sempre di più, e quindi era un po' difficile riabituarsi, no? Devi rimodulare tutto, esatto, e poi soprattutto, io mi ricordo la prima volta che ho fatto flag to flag, e diciamo, gara bagnata, quindi giri con i dischi d'acciaio, fermi con la moto GP, sali, prendi l'altra moto, con quella d'asciutto, con le slick e i dischi in carbonio, esci, fai il pit limiter, metti seconda, terza, quarta, vai a frenare la San Donato, non frena, dritto, nella ghiaia, diretto, come un pirla, esatto, quando si vocevano le pasticche, esatto, esatto, e quindi quello, poi, diciamo, con l'esperienza poi ti abitui un pochettino, poi è normale, ma quella sia una differenza abbastanza grossa, ma secondo me la differenza più grossa in assoluto è la rigidità della moto, è per quello che è meglio arrivare, e i piloti che hanno fatto meglio in assoluto sono piloti che hanno fatto la gavetta classica Moto3, Moto2 e MotoGP, o da 125-250 a MotoGP, perché sono moto tutti prototipi, tutte molto rigide, molto simili come razioni, mentre quando tu fai la tua carriera su moto derivati dalla serie, quindi con gomme e pirelli che sono super performanti, ma muovono anche parecchio, e con telai di produzione, quindi con telai che sono molto meno rigidi, molto più flessibili rispetto alle MotoGP, hai delle razioni completamente diverse, quando poi sale sulla MotoGP inizia ad avere queste reazioni così veloci, la moto è così reattiva, devi cambiare totalmente il tuo stile di guida, devi iniziare a capirla, e chiaramente se tu hai già fatto magari 5-6 anni prima di Moto3 e Moto2, arrivi in MotoGP che sei già più pronto, che è una preparazione differente, che il tuo problema diventa solo abituarti alla potenza, a un'elettronica più evoluta, ma è fattibile, infatti si vede adesso chi passa dalla Moto2 alla MotoGP, fa molta meno fatica, faranno anche le Moto2 di oggi che aiutano un pochino, secondo te questo passaggio. Sicuro, sicuro, ma il problema era che secondo me le Superbike, le SuperSport sono così diverse rispetto a una MotoGP che quando ci arrivi da una SuperSport è normale che fa un pochino più fatica. Così tanto per far capire a chi una MotoGP non l'ha mai provata e con un'altissima probabilità non la proverà mai. Si può dire che una differenza, con le dovute proporzioni, tra un SP e una GP, cioè una 125 SP e una 125 GP hanno delle differenze sostanziali, parlo proprio di rigidezza, di tipologia di guida, con le dovute proporzioni ovviamente. Sì, è chiaro che tu ti devi immaginare una moto che è una 125 Sport Production, non è un'Aprilia RS, che siamo cresciuti tutti con questo mito qua. È una moto che ti può comprare al concessionario e chiunque la può utilizzare. Cioè se, diciamo, mia sorella aveva un 125 per andare a scuola, quindi è una moto che può usare qualsiasi persona, anche senza… l'importante è che sai cambiare le marce e ti puoi divertire, può andare bene. La 125 GP è lo stesso concetto, ma super estremizzata in tutto. Quindi diventa una moto che se inizia a dare del parzializzato, gripi il motore, se non la guidi nel modo giusto, rompi il motore o vai piano. È una moto sicuramente molto più performante, ma anche molto più difficile da portare al limite. E questa è la differenza un po' tra i prototipi e le moto di produzione. Le moto di produzione sono nate per il cliente medio, no? Quindi sono nate sicuramente sia per i piloti che possono andare in pista, ma anche per l'utente normale che va per strada e va in giro, semafori, esatto, va in ufficio e le puoi utilizzare tutti i giorni. Una moto GP, una moto da gran premio, che può essere una 125, due e mezzo, una moto 2, una moto 3, in generale una moto da gran premio, sono moto che sono difficilissime da portare al limite e con altissime probabilità la prima volta che le provi andrei più piano che con una moto derivata dalla serie. Finché poi non ci prendi la mano, non capisci veramente il limite, ha freni migliori, motori migliori, ha tutto meglio, è più leggera, è più performante, ha sospensioni migliori, ha tutto meglio. Però è più difficile da portare, devi capirla, è più difficile da portare al limite. Certo. Torniamo a quell'anno, parliamo del 2009. Bravo. Che poi ci siamo visti al Mugello quell'anno, ti ricordo che vedi nel camper. Esatto, esatto. Mi ha aperto un mondo perché non ero mai stato in un camper di un prima da una moto GP, ovviamente. Io ci sono stato solo quell'anno lì, poi basta. Vabbè, capito. C'ho pure una foto, dopo te la faccio vedere. Volentieri. Vecchissima. Ok, fai questo 2009 con i risultati, insomma, che hai detto. Leggevo proprio ieri un articolo, non mi ricordo neanche chi l'aveva scritto, che diceva ogni pilota si meriterebbe un contratto di due anni. Mi sto riagganciando al discorso che ho fatto prima. Ed è vero, oggettivamente. Poi è chiaro, non si può entrare nei meccanismi economici, soprattutto dei team e delle decisioni. Però, oggettivamente, il primo anno, soprattutto, si fatica ovunque, penso, il primo anno. Sì, in qualsiasi campionato, ma se decidi andare a correre anche nel CIV, che è un campionato nazionale, non di alto livello, ma un campionato nazionale, tu vai lì, magari tu corri tutta la tua carriera con un tipo di moto, un tipo di gomma, arrivi al CIV, il regolamento è diverso, corri con le Dunlop, ci sono gli specialisti come Michele Piero, Del Bianco, Zanetti, tutti i piloti che sono molto esperti, sono tanti anni che lo fanno, e arrivi lì, anche se sei il fenomeno che vuoi, però ti ci vuole un po' di tempo per abituarti, perché le gomme sono diverse, le moto sono diverse, con ogni probabilità hai un team nuovo, che comunque fa il campionato italiano, ma che non è il tuo capo tecnico e il tuo elettronico da una vita, quindi in ogni caso, in ogni campionato, quando arrivi è difficile, immaginati quando arrivi in MotoGP e corri contro dei mostri sacri. In più c'hai le pressioni ovviamente differenti. Finisci quindi quella carriera, non c'è un secondo anno in MotoGP, e che succede? Che cosa fai? Quell'anno lì, allora, quando finisci la MotoGP, anche se è stato un anno un po' difficile, avevi fatto due top ten, comunque qualche risultato buono c'è stato, e lì hai un po' tutte le possibilità aperte, no? E lì è stata abbastanza una sfiga, abbastanza grossa, perché avevo la possibilità di andare un po' dove volevo. E ho scelto di andare, era il primo anno 2010, il primo anno della Moto2, quindi fino a quell'anno lì si è corso in 250, ha vinto il mondiale a Oyama con la Honda 250, bravissimo col team Scott, e quindi avevo un sacco di possibilità. In quell'anno lì decisi di, visto che la Moto2 era una categoria nuova, non si sa bene, non si sapeva bene quale moto sarebbe andata forte, se la Calex, la Suter, ce n'erano altri che avevano costruito delle moto che avevano un po' copiato il telaio dell'M1, chi aveva copiato un po' il telaio dell'Onda, ognuno si era un po' creato la sua strada, poi è chiaro che c'è stata una selezione naturale, come abbiamo visto, no? Sì, c'erano tantissimi costruttori all'inizio. Esatto, all'inizio c'erano un sacco di costruttori, e lì avevo un po' tutte le strade aperte, ho scelto di andare col team Scott, perché aveva appena vinto il mondiale con la 250, ho detto, tra tutte le scelte che ci sono, vado col team che ha appena vinto. Anche se la 250 era un'altra categoria, comunque ti aspetti che... Cominciavano tutti da zero per lui. Esatto, esatto. E lì è stato un anno tragico per la mia carriera, che ha quasi, mi ha fatto pensare di smettere, perché arriviamo, ok, la moto purtroppo non era la moto che ci aspettavamo, pesava 20 kg in più delle alte, era tipo 20 cm più larga, quindi poi alla fine ci siamo ritrovati lì, non si sapeva niente, tutti hanno lavorato al buio, quando arrivi alla prima gara, dopo ti sconti con la dura realtà, e lì non è stata affortunata. Ed eravamo io e De Angelis, compagno di squadra. E praticamente ho scoperto poi dopo, il team era in grossissime difficoltà economiche, finanziarie. Quindi è stato un anno, per me è tragico, perché, a parte che non sono stato pagato, ma quello è stato poi il meno tra tutto quello che è successo, il team non ha finito la stagione, mi ha fatto poche gare, poi ha chiuso. Addirittura ti racconto un episodio che mai penso che sia successo nella storia del motociclismo. Arriviamo al Mugello, Gran Prima d'Italia, quindi la gara per me e per Alex è la gara più importante dell'anno. Arriviamo lì, pochi minuti prima delle qualifiche, sei piloti pronti al box, seduti lì, nel box non c'era nessuno. C'erano le moto, termocoperte attaccate, non c'era nessuno. Non c'era nessuno. Non c'era nessuno dentro il box. Ci guardiamo, manca dieci minuti, adesso arrivano, mettiamo il naso fuori. Nessuno, cinque minuti, tre, due, uno, mettiamo il casco, ci alziamo, mi ricordo c'era il suo fratello che l'ha aiutato a togliere il termo, la mia ex ragazza che l'ha aiutato a togliere il termo. Siamo partiti, ci abbiamo fatto così le qualifiche del Gran Premio d'Italia al Mugello e ovviamente dopo poi sono tornato appoggiato la moto al muro e basta, nessuno ci ha messo la gomma nuova e quindi è stato un po' un disastro. Poi abbiamo capito, i meccanici hanno superato e lì avevano anche probabilmente ragione e mi dispiace per loro perché non prendevano lo stipendio dall'anno prima. E quindi, sì, 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 quello che dicevano, chiaramente quello è stato un problema, è stato l'inizio della fine perché poi il team è andato a rotoli chiaramente. Certo, certo, in un attimo. Esatto. Faceva la MotoGP, perdonami, quell'anno? Anche sì. L'anno prima forse con Talmaxi, no, quell'anno lì non faceva più la MotoGP, la faceva l'anno prima, fino al 2009 l'ha fatta. Cottovizioso? C'era, no, quell'anno lì l'aveva fatta con Takashi e Talmaxi. Mi sembra, con le Honda. Sì, bravissimo. Quindi comunque era un team solido, quando decisi di andarci ho visto al team MotoGP, team campione del mondo in 250, dice ok, sei tranquillo, invece è stato un disastro. Aveva addirittura, mi ricordo, accettato un contratto molto più basso, avevo delle offerte molto più alte economicamente e avevo detto no, rifiuto, vado con loro perché sono... I campioni del mondo. Esatto. Meglio prendere un po' meno soldi e provare un investimento perché sono magari i migliori, no? Le squadre, squadre top, perché mi ricordo comunque c'erano delle persone interne del team, capotecnico, ingegneri, tutto top e si vede che avevano vinto il mondiale, si vede che è gente che ancora adesso corre e che fa il moto mondiale e che sono nei top team e anche meccanici, così la squadra, ma purtroppo era il management che era totalmente all'aria, sbagliato, no? E quindi mi sono ritrovato a piedi. Quindi da, diciamo, dall'anno prima, esattamente un anno prima al Mugello a fare... settimo, ottavo, non mi ricordo il mio risultato, in MotoGP, ritrovarsi a piedi esattamente 365 giorni dopo. E questa è la crudeltà di questo mondo perché vedi anche con Digia che ha rischiato di trovarsi a piedi fino all'ultimo secondo, anche aveva fatto dei podi, avendo vinto una gara, ancora non sapeva se avrebbe... pensa alla follia, ha trovato una moto, adesso fortunatamente l'ha trovata, ma ti fa capire quanto è crudele, quanto è difficile questo sport perché se fai questo da pilota investi tutto in questo perché ti alleni tutti i giorni per questo, non è che puoi fare un altro lavoro o puoi occuparti di qualcos'altro, questo è la tua vita, il tuo stile di vita, la tua vita e dai tutto per questo. Il problema è che ti puoi ritrovare a 23, 24, 25 anni e così, senza niente, perché diciamo la carriera non è andata nel migliore dei modi, ma magari neanche perché non perché i tuoi risultati non erano all'altezza ma perché tutto il sistema all'intorno sono incastrate le cose esatte. Con Zanetti ne parlavamo perché poi Zanetti è il classico esempio di atleta che si è dovuto reinventare ben tre volte perché lui come ci raccontava appunto ha fatto la carriera insieme a voi poi ha ricominciato dal CIV in una stock 600, è andato al mondiale e ha ricominciato dal CIV in superbike prima di lui. Però lui ha detto una cosa interessante, ha detto probabilmente non aveva raggiunto dei risultati a livello sportivo ed economici perché chiaramente è tutto proporzionale. mi ha fatto mantenere viva questa passione fino a oggi perché lui comunque è un anno più di te per cui corre ancora adesso ma in Germania a correre ma comunque in un campionato nazionale insomma stai facendo un mondiale con delle realtà differenti e lui non c'ha nessunissimo interesse al momento nessunissima intenzione si mette magari avendo raggiunto i risultati si economici avrei smesso qualche anno prima è altamente probabile come realtà sì io guarda mi sono trovato a un bivio di scegliere se smetto di continuare più volte da quell'anno lì da quella della moto 2 per i 3-4 anni successivi forse 5 perché ogni anno ora te le racconto velocemente senza entrare troppo nei dettagli ma quell'anno lì sono stato pagato e non ho preso una lira sono rimasto a piedi a metà stagione sono ripartito dall'italiano stock 1000 immaginati sono ripartito dall'italiano stock 1000 un anno prima sempre il MotoGP dopo riparto con un team faccio il mondiale stock 1000 e va bene però un boss di superbike perché sono andato bene mi ricordo quell'anno lì eravamo con Petrucci Giuliano io avevo iniziato a metà stagione ho fatto un sacco di punti forse è stato quello che ha fatto più punti in assoluto per le gare che ha fatto quindi Petrucci aveva vinto poi il campionato e comunque gli ho dato del filo da torcere e lottavamo io Petrucci Giuliano con la Ducati sempre quell'anno lì poi il team decide di andare in superbike anche lì fa il passo più lungo della gamba non vengo pagato e niente quindi già il primo anno Moto2 non vieni pagato l'anno dopo fai un investimento su te stesso corri stock quindi va bene non prendi niente l'anno dopo vieni in superbike con un bel contratto non vieni pagato ancora quindi se iniziano ad essere tre anni che non prendi una lira allora dici ok posso pensare di aver fiducia in me stesso di essere forte e tutto ma anche i miei iniziarono a dirmi ma cosa facciamo mi ricordo mio padre addirittura mi aveva portato che ti fa capire la situazione mi aveva portato a fare un colloquio di lavoro per un suo amico per uno che conosceva ho detto te lo presento lui mi ha detto andiamo a pranzo con questo mio amico siamo andati a pranzo con questo suo amico e praticamente era una sorta per capire se poteva darmi la mano a lavorare quindi iniziava ad avere un po' di messaggi a 360 gradi tutti intorno che mi dicevano che cavolo stai facendo meglio forse fermarsi se hai ancora in età giovane che puoi ancora continuare o a studiare o creati una carriera da qualche altra parte e dentro la mia testa ho iniziato ad avere dei dubbi forti perché ad un certo punto dice ok iniziano ad essere un po' di anni che va male che ti sconti con delle realtà che non sono professionali che comunque deve essere il tuo lavoro se fai quello devi guadagnare qualcosa non è che puoi pensare di divertirti è il lavoro più bello del mondo ma alla fine deve essere sostenibile tocca pagare l'affitto tocca pagare le spese tocca vivere di questo e quindi ci ho pensato più volte ed sono stati dei momenti per me difficili perché dentro di me sapevo che ero lo stesso che aveva fatto il racco della pista al Mugello sapevo che era lo stesso che aveva vinto il mondiale stock lo stesso che aveva fatto le top ten in MotoGP ma comunque mi guardavo intorno e non vedevo un futuro in questo sport non sapevo come come fare e lì è stata un pochino la mia forza di volontà di dire no io sono ancora io io mi sento forte sono allenato sono in forma non ho infortuni da qualche anno mi sento bene io posso dare ancora qualcosa e posso fare di questo sport il mio lavoro non posso credere di continuare ad avere questa sfortuna e lì ho trovato Genesio e Genesio col team Altea mi ha dato un'ottima possibilità perché mi ricordo che ero rimasto a piedi per il quarto anno di fila ero andato con un'altra squadra in superbike che anche lì era fallita quindi una sfiga incredibile e lui aveva correva quell'anno lì con Bayocchi con Nico Terolle Nico Terolle non aveva dato i risultati sperati a me sta stagione io ero a piedi lui aveva deciso di mandare via Nico perché non o comunque avevano deciso di non continuare insieme c'era questa moto di Altea libera e superbike e cavolo un sogno sono andato lì Genesio poi tra l'altro è un bravissimo team manager non a caso ha vinto il mondiale da privato una bravissima persona mi ha dato la possibilità di siedere di nuovo su una moto competitiva seppur privata non ufficiale e mi ricordo che quell'anno lì abbiamo fatto poche gare in superbike ma siamo andati anche abbastanza bene mi ricordo ho fatto la prima fila a Jerez mi ricordo che c'era Reha in pole position io ero secondo terzo una cosa del genere 2015 bravo 2015 prima fila Magni Cure invece lì sul bagnato anche lì sono soddisfazioni da team privato che ero di nuovo a piedi riuscire su superbike e fare delle prime file è stato è stato bello purtroppo anche lì l'anno dopo Genesio decide di cambiare moto va a BMW ed ero obbligato a prendere chiaramente un top rider e un pilota tedesco e quindi non c'era spazio per me di nuovo era un paio di anni che Yamami faceva la corte per andare nel mondiale endurance e lì è stata diciamo la svolta della mia carriera perché per la prima volta nella mia vita mi sono trovata a correre con un contratto con una casa ufficiale perché anche tutti gli anni con Ducati ero con i team l'unico anno che avevo un contratto ufficiale era quando fatto da collaudatore ma chiaramente non correvo e mi sono trovato e quella è stata la svolta nella mia carriera perché non conoscevo nulla dell'endurance praticamente non avevo mai visto una gara non sapevo come funzionasse era tutto nuovo e si è aperta una nuova pagina della mia carriera perché tra l'altro chiunque segue il motociclismo insomma chi ha frequentato questo ambiente l'endurance oggettivamente anche a livello di notorietà adesso sta uscendo tanto perché tanti piloti insomma del campione italiano si sono spostati a fare le endurance insomma sta avendo un pochino più di visibilità però oggettivamente si conosce poco dell'endurance quindi quando uno dice va a fare l'endurance poi esattamente cos'è come funziona invece poi tu ormai quanti anni sono tanti che sei dal 2016 sì dal 2016 che sono in endurance ci sono state delle parentesi in mezzo adesso ce le ce le dici però oggettivamente hai trovato una realtà diversa perché un motociclismo immagino diverso io ne conosco conosco poco devo dire la verità conosco tanti piloti che corrono lì ma conosco poco dell'endurance e soprattutto corre in piste in cui non si corre nei campionati mondiali che sono tipo Suzuka piuttosto che piste storiche sì Le Mans è una pista dove corre anche la MotoGP quella è una bella pista però qui abbiamo il Bulldor le Castellet che ci corre la Formula 1 ma di moto non ci corre nessuno esatto sì sì Spa Franco Champ che è una pista incredibile mi sono sempre chiesto perché Spa non fa parte del mondiale perché è una pista folle abbiamo una media di più di 200 all'ora è una pista pazzesca un po' pericolosa hanno fatto tanti lavori adesso per migliorarla però però diciamo ci sono un paio di curve in sesta piena che sei col ginocchio e il gomito per terra in sesta quando la fai di notte diventa abbastanza la parte quella tutta finale tutta dietro sì la parte finale sì quei due curvoni a sinistra lì dici ok non voglio sapere cosa c'è lì oltre il buio perché è vero perché tutto ciò uno non ci pensa ma il buio non è soltanto la visibile e non vedere tutto tutto intorno esatto esatto e l'ourouge invece come è da fare l'ourouge è una roba incredibile immaginati che tu scendi esci dalla prima curva in prima fai seconda terza quarta quinta e fai il pelo al muro se proprio fai il pelo al muro tocchi i freni e poi sali su ma è una salita che è come il cavatappe di Laguna Secca al contrario come pendenza solo molto più veloce e anche spostare la moto a quella velocità non è facile è bello è emozionante quella pista lì è veramente emozionante e quest'anno abbiamo vinto la 24 ore lì è stato qualcosa di incredibile ecco ma a livello di preparazione voi hai detto la 24 ore che so 8 12 24 ore come cambia l'approccio proprio al weekend perché allora qua ho un aneddoto buffo perché mi ricordo non sapevo nulla ecco Andrea Dosoli il diciamo responsabile di Yamaha per le corse era già un po' ai danni che mi cercava e decido di accettare perché era la prima volta che potevo avere un contratto con una casa ufficiale quindi ho detto ok andiamo e facciamo questo mondiale Endurance è chiaro che la superbike è più famosa è più conosciuta e tutto però ho sentito parlare tanto di questo Endurance ho la possibilità di correre per vincere il mondiale cosa che non avevo in superbike e proviamoci proviamoci mi lancio a capofitto in questa cosa ho i classici 3-4 mesi invernali di pausa ho definito il mondiale mi guardo un video su youtube guardo un video di questo ceca david ceca fratello di carlos che è un super esperto ha vinto tanti mondiali in Endurance c'è pure corso insieme certo sì e che sarebbe stato poi il mio compagno di squadra io guardo questo video io vedo dopo un tot di ore che lui si farma per un pit stop i meccanici lo aiutano a scendere dalla moto lui l'hanno tirato via di peso e l'altro pilota è salito ho detto cavolo questa è una disciplina che è mortale fisicamente guarda i piloti come sono conciati dopo la metà gara tutto l'inverno mi sono preparato come un assassino proprio per cercare di essere il più in forma possibile non mi sono mai preparato così tanto ho fatto vedere il video mi ricordo i miei preparatori ho detto guarda questi 24 ore su una moto a spingere così non posso neanche immaginare faccio fatica a finire una mancia di superbike immaginati questi ho fatto un mazzo incredibile poi arriviamo ai primi test e racconto sono ben allenato e tutto io dico cavolo ho visto dopo un po' di ore non riuscite neanche a scendere dalla moto lui mi fa no 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 ma lì mi ero appena rotto la caviglia stavo correndo con la caviglia rotta mi ero appena rotto la caviglia quindi quasi io avevo visto un video chiaramente di lui che aveva esatto che aveva una caviglia rotta e che per quello non riusciva a scendere dalla moto quindi alla fine mi è servito ero allenatissimo pronto per fare il debut un inverno esatto su quel video famoso però è stato è stato bello perché ho corso con un team che aveva vinto tanto nel mondiale endurance che oggi mette i 94 e abbiamo abbiamo vinto tantissimo già da subito e mi hanno insegnato tantissimo mi hanno insegnato questa disciplina che è è diversa dal dal correre normalmente da solo perché hai due compagni di squadra se sei sei un compagno di squadra che hai in difficoltà che di solito è il tuo primo nemico non è il compagno di squadra invece gli devi dare una mano devi aiutare perché sai che se lui perde un decimo al giro durante la 24 ore significa che ci prendiamo un giro alla fine della gara quindi anche solo un decimo ha un impatto incredibile sulla durata della gara e quindi bisogna cercare di di darsi una mano a vicenda di di aiutarsi e devi iniziare ad accettare il fatto che se il tuo compagno di squadra fa un errore in gara compromette la tua gara e devi accettarlo perché domani puoi essere tu magari che fai un errore e che mandi a quel paese tutti gli sforzi fatti tutta magari 15-16 ore di gara fatte è un campionato del mondo per per un tuo errore mentre prima sei tu a fare un errore sei tu a pagare nelle conseguenze ma hai due mance di superbike a weekend hai 15 gare a stagione quindi hai un sacco di tempo qua erano 4-5 gare e se sbagli una il campionato già è la moto è quella per cui si la moto continua a girare lo sforzo che fa la moto è una cosa incredibile perché la moto continua a girare sempre 24 ore non si ferma mai si ferma solo cambio gomme benzina cambio gomme benzina e ogni ora ci si dà il cambio e si continua così ed è l'unico sport motociclistico dove diciamo anche la squadra e i meccanici sono parte attiva durante la gara perché tu immagini una gara di MotoGP i meccanici hanno fatto il loro lavoro la gara parte ed è tutto in mano al pilota lì invece ci sono tutti i pit stop dove i meccanici devono essere veloci c'è un problema tecnico i meccanici devono essere al top per risolverlo il prima possibile per capire che cos'è risolverlo aggiustare la moto e farti ripartire il prima possibile quindi non sei più solo tu a dover vincere la gara ma sei tu i tuoi compagni di squadra e la tua squadra e questo è bellissimo una cosa che mi è piaciuta sin da subito e che ti dà l'impressione quando arrivi mi ricorderò sempre quando abbiamo vinto la prima 24 ore arrivi alla fine ed è una sensazione pazzesca sei davanti a più di 100.000 persone perché queste sono gare che fanno un pubblico incredibile invasione di pista sotto al podio ti trovi dopo che hai fatto una fatica così grande dopo che hai condiviso perché poi la 24 ore è sempre piena di imprevisti non ho mai fatto una 24 ore senza che si rompesse qualcosa senza che quando fila tutto liscio quindi quando vinci la tua prima 24 ore di Le Mans è qualcosa di incredibile ti senti veramente di aver compiuto un'impresa pazzesca raccontava nel libro Valentino Rossi un libro di 15 anni fa quando fece la 8 ore di Suzuka mi pare col WTR insieme a Colin Edwards vabbè al di là dell'aneddoto che raccontava di quando adesso non ricordo un altro pilota era cascato comunque ed erano tutti contentissimi perché non ce la facevano più e dicono basta ce la siamo tolti ma che venivano presi i piloti poi ci dici se è vero o no gli mettivano delle flebbo di liquidi e poi subito nelle vasche refrigeranti ecco quindi c'era in Giappone per cui era in Giappone c'erano queste ragazze che ti prendevano ti toglievano la tuta infilavano in acqua flebbo mezz'ora e si ricominciava Suzuka è la gara anche se ha 8 ore è la gara delle gare per i costruttori giapponesi è più importante vincere l'8 ore di Suzuka che vincere una tappa della MotoGP a MotoGP piuttosto che la gara del Mugello che per noi sembra quasi in eresia ma lì quando vai lì ti accorgi veramente di quanto è importante per i costruttori giapponesi questa gara ed è una gara che è da pelle d'oca perché ci sono un numero incredibile degli spettatori è l'unico evento dell'anno dove vediamo tutta la dirigenza di Yamaha ad esempio quindi tutti i grandi capi di Yamaha che vengono lì e i budget che hanno per le MotoFactory dove lì si corre con le MotoFactory con HRC la Kawasaki Yamaha e tutto budget che hanno per quella gara lì è paragonabile al budget che si spende per tutta la stagione nel mondiale superbike capito con due piloti e tutto quindi immaginati quanto effort ci mettono le case costruttrici per cercare di vincere questa gara perché è qualcosa di epico per loro è una gara dove praticamente tu dimostri che la tua moto non è solo la più veloce come fai vedere in MotoGP come fai vedere in Superbike ma è anche la più affidabile certo ed è stata scelta appositamente nel periodo più caldi dell'anno e più difficili in Giappone proprio per questo motivo qua per mettere a dura prova al massimo le moto per dimostrare che la tua moto è la migliore nelle condizioni più difficili che puoi trovare e questo già ti fa capire il significato di questa gara e quindi per ritornare al discorso di Valentino adesso le flebbo sono vietate per una questione di regole anti-doping quindi non le puoi più fare però si faceva però si faceva all'epoca non era vietato quindi si faceva tranquillamente ma mi piacerebbe che me ne facessero perché è la gara più faticosa è una pista che ha un grip incredibile sali scendi velocissima e continui i cambi di direzione quindi il tuo corpo è super sollecitato e gli istinti durano un'ora quindi tu sali un'ora con una temperatura fa caldissimo per veramente provare a fare un giro di corsa a corsa a piedi che di solito lo facciamo sempre il giovedì un giro di corsa a piedi lì è veramente impegnativo riuscire a fare un giro di corsa a piedi anche a ritmo blando ma per esempio di temperature di temperatura e umidità che c'è lì quindi anche guidare la moto con tutto sai quando sei vestito da moto e tutto il calore della moto il calore dell'asfalto in più alla massima intensità per un'ora che le gare di MotoGP2 hanno 40 minuti le gare di Superbike 32-33 minuti lì sei per un'ora sulla moto devi dare tutto è veramente impegnativo e quindi nel momento in cui tu scendi dalla moto sei stremato e quindi la prima cosa che fai ti cambia e ti ficchi dentro alle piscine di ghiaccio perché devi abbassare la tua temperatura corporea perché devi reintegrare i liquidi perché dopo ogni istinto prendiamo 2-3 kg solo di liquidi ogni istinto ogni istinto ed è fondamentale reintegrare nell'ora e mezza di pausa che hai reintegrare al massimo i liquidi perché se no poi dopo al secondo istinto sei finito finito e quindi quelli sono aspetti molto importanti dell'endurance però ti fa capire quanto effort c'è dietro dietro a questa gara ed è bellissimo in Italia in Italia non c'è ancora questa mentalità comunque questa attenzione Ducati dovrebbe aver cominciato a fare l'endurance un pochino più attivamente ho parlato con Pecco un paio di settimane fa al gala della federazione FIM gala e lui mi fa prima o poi ci vediamo sicuramente non si sa quando ma quella è una cosa che gli piacerebbe fare mi ha detto che gli piacerebbe correre anche lui all'autore di Suzuka e tanti piloti anche quando parlo con Locatelli Locatelli mi dice mi piacerebbe un sacco fare la 24 di Le Mans Johnny stesso ha vinto però lui l'ha fatta l'autore di Suzuka Toprak l'ha fatta e non ha corso gli è rimasta qua e quindi gli piacerebbe farla quindi chiaramente questa è una gara che attira piloti di tutto il mondo di tutti i tipi dalla MotoGP Superbike ed è la possibilità anche noi esperti di Endurance di confrontarci con i piloti di MotoGP di Superbike nella stessa pista con le nostre moto è certo anni fa si utilizzava di più portare i piloti top rider di altre categorie a vincere quanto meno a partecipare all'autore si adesso è un pochino più difficile per vedere il calendario nel senso che quest'anno è concomitante l'anno scorso sarà concomitante se non sbaglio con la MotoGP quest'anno sarà concomitante con la Superbike e quindi poi via delle Olimpiadi che ci saranno a Parigi e il broadcaster e l'organizzatore del Mondiale Endurance è lo stesso che trasmetterà le Olimpiadi in Francia quindi quindi dobbiamo farli siamo abbastanza obbligati con le date e quindi quello è un po' un peccato e non sempre riescono a venire i top rider ma per una questione di date più che altro Marquez voleva venire ma si stava giocando l'ultimo mondiale che poi ha vinto quindi Honda non l'ha lasciato quindi chiaramente per noi è un sogno quando vengono questi piloti perché corriamo con la nostra moto con le Bridgestone che conosciamo da tutto l'anno e corriamo in una pista dove corriamo tutti gli anni e abbiamo la possibilità con qualche venivo vantaggio di correre contro dei piloti che sono delle superstar ed è bellissimo perché possiamo anche noi dire la nostra tu hai fatto insomma l'Endurance che è una categoria come abbiamo detto particolare diversa su piste anche insomma ogni tanto ai limiti il Touristrophy lo faresti mai qua entriamo in un ginepraio che poi dopo ci sono gli amanti del Touristrophy che ti insultano no no per carità no senza no io personalmente non lo farei perché allora io ho visto ho corso anche nel BSB quest'anno ho corso ho fatto tra l'altro una gara proprio a lottare con Hickman a Donington a Donington e ti rendi conto di quanto di quanto gli specialisti di questa categoria vadano forti di quanto un Peter Hickman sia un pilota fortissimo che potrebbe correre un mondiale superbike e in più vince Macau vince il Touristrophy e tutto non mi immagino andare in una pista strada come il Touristrophy e pensare di battagliarmi con lui perché è impossibile a me piace fare le cose dove mi piace mi piacciono le sfide ma mi piace anche vincere mi piace andare lì e so che mi prenderà una paga stratosferica e in più rischi di fare un errore lui la conosce talmente bene che gli errori li riducono va sempre più veloce ma riduce sempre più l'errore uno che va lì da profano senza conoscere la pista rischi che veramente fai un errore stupido e ci lasci le penne e non è magari il mio sogno ho tanto rispetto per chi lo fa ma io personalmente non lo farei era questo senza giudizi sul campionato perché poi da vedere è bello oggettivamente ne parlavo con Davide Giuliano che lui l'ha fatto poi il BSB ha fatto tutta stagione tu hai corso il BSB solo a Donington o hai avuto modo di capire e Brainsatch anche ho fatto e Brainsatch e già Brainsatch è una pista abbastanza caratteristica sì bellissima però perché ci avevo vinto nella Stock 1000 quella famosa del 2007 esatto pista incredibile dal 2007 non sono più tornato sono tornato quest'anno ma è una di quelle piste pazzesche che puoi paragonare Laguna Seca Imola Phillip Island sono quelle piste che sono incredibili da moto non studiate per le auto piatte tutto ma sono piste che sono veramente emozionanti dove il pilota può fare ancora la differenza penso che un Imola è una pista dove anche se non è la moto più performante di tutte se sei un pilota veramente talentuoso può fare la differenza così come a Laguna Seca così come anche a Spa è un'altra pista pazzesca ci sono delle piste un po' così iconiche incredibili che fanno storia a sé non farei l'isola di mano ma mi serve io ho sempre sogno di provare a fare il racco del Nürburgring della pista anche del Nürburgring esatto però non ho mai trovato un folle team manager che mi supporti in questa idea quindi non ho mai portato c'è corso però ho girato in macchina lì dentro ok al Nürburgring alla pista diciamo della superbike no 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 parlo dell'old sì sì ci ho girato lì è pista pazzesca di quella però ci ho girato solo in macchina non ci ho mai girato in moto mi piacerebbe andarci con la nostra moto da endurance con le nostre Bridgestone e dire ok adesso ci prendiamo una giornata prima a fare il racco della pista in moto però quella è un'altra pista un po' meno estrema del Tourist Trophy perché è una pista ma anche di che l'errore deve restare a zero cioè se gli sbagli sbagli e non è diciamo le conseguenze non sono top no direi decisamente no quindi quello è una cosa che è un progetto che ha accantonato e basta esatto perché comunque sì appunto come diceva Davide ci sono degli specialisti delle categorie questo è poco da dire ne parlavamo con Zanetti anche che diceva questo i top rider soprattutto inglesi magari che hanno una appunto una categoria che è totalmente differente da quella a cui siamo abituati con dei regolamenti differenti perché pure là ci dicevano appunto non c'è controllo della trattazione già questa cosa se pensi alla pista pensi ai motori e non pensi che non c'è controllo della trattazione già solo quello secondo me è follia e appunto Davide Giuliano che poi Davide Giuliano ad esempio è uno di quelli piloti che come immaginario dici è più matto di tutti a livello di pilota che problema ha Giuliano ad andare lì invece Giuliano ha avuto problemi lì problemi proprio di adattamento perché poi non era la sua categoria e ce l'ha e ce l'ha raccontato per cui appunto ogni categoria vuole il suo specialista e a proposito di categorie particolari tu in tutto ciò in mezzo hai corso anche in moto E bravo esatto ci stavamo dimenticando sì perché ho fatto moto 2 moto GP super bike la stock 600 stock 1000 l'endurance la moto E le ho provate tutte sì esatto c'è stato un anno c'è stato un anno che ho fatto ok sono anche collaudatore della super bike per Yamada tanti anni ormai il coach dei piloti esatto quindi c'è stato un anno che è stato particolarmente complesso perché alla fine i risultati sono anche arrivati ma è stato complesso perché facevo il campionato italiano con le Dunlop con Yamada il collaudatore super bike con le Pirelli il mondiale endurance sempre con l'R1 con Bridgestone e la moto E con Michelin quindi puoi immaginare la confusione da un weekend all'altro salire su un R1 in configurazione diversa o sulla moto E con gomme diverse con set in diversi era un mal di test un grattacapo incredibile però era bello perché ho fatto un sacco di chilometri in moto ma non facile assolutamente non facile e la moto è stata una categoria sono stato contento di correre due stagioni in moto E sono stati degli anni un po' particolari perché la moto è strana è diversa non è come una moto alla quale siamo abituati perché è molto più pesante pesava 260 kg l'energia che utilizzavamo e gare cortissime quindi io passavo da fare da 24 ore di Le Mans a fare i 5 giri di Misano quindi anche quello non facile però è stata un'esperienza bella perché alla fine quando corri in un campionato monomarca è sempre bello perché alla fine sei tu che ti devi adattare alla moto la moto non sarà mai perfetta per te è uguale per tutti quindi ti devi adattare ed è sempre un campionato interessante bot incredibile anche lì perché non c'era controllo di trazione adesso c'è con l'ultimo modello non c'era controllo di trazione moto che non era proprio una moto da corsa quindi è una moto da strada reinventata per le corse ok è stato faticoso sì però dai divertente sono riuscito a fare il podio anche alle man forse riconoscevo la pista è stato divertente non è facile ma mi è servito fare anche delle gare sprint insieme all'endurance perché in endurance passi magari 5-6 piloti al giro che sono i doppiati ma non hai più di tanto la bagarre gomito a gomito e quindi è bello fare due categorie così all'opposto così estremizzate in due modi totalmente diverse perché la moto E è solo sprint cioè tu entri devi chiudere gli occhi alla prima curva e se tu già alla prima curva sei riuscito a passare indenne senza buttare per terra nessuno e senza farti buttare per terra e riesci magari a godinare due o tre posizioni la gara l'hai già risolta bene e poi non devi cioè non puoi aspettare un attimo per fare strategia devi andare e fare quei 6-7 giri così al massimo cioè non devi ne pensare a niente mentre in Endurance c'è molta più strategia c'è molta più rifletti molto di più se arrivi con un doppiato è chiaro che non rischi di buttarti per terra in 24 ore per sorpassare un doppiato aspetti magari la curva dopo magari hai perso 3-4 decimi però hai tempo diciamo sì esatto lì invece devi andare con gli occhi chiusi praticamente quindi fare le due cose mi ha anche fatto crescere un pochettino in Endurance perché ero molto più aggressivo molto più veloce in certe situazioni di gara è chiaro è vero perché poi uno ci pensa fa una moto E fa l'Endurance sì è una moto due gomme no proprio per neanche questo approccio che uno sottovaluta ma passi da 24 ore a 5 giri 6 giri non è facile non è facile no 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 non è la stessa cosa non è la stessa cosa devi dare tutto di là non puoi permettertelo insomma è una cosa la cosa diciamo non abbiamo parlato tanto è che da quando sono passato il Yamaha io sono sono veramente contento perché ho trovato c'è lo slogan Yamaha family no ho trovato veramente una famiglia e questo è stato diciamo bello la parte forse più bella della mia carriera perché io sono entrato il Yamaha da pilota di Endurance senza sapere nulla di Endurance e pian pianino mi hanno dato la possibilità di fare sempre più cose no ho iniziato a fare mi ha chiamato una volta a fare il collaudatore a provare l'R1 Superbike l'ho provata e è andato bene ho dato delle indicazioni belle da lì non ho più smesso una volta mi ricordo che era a fare dei test c'erano loro se Van den Mark io giravo il primo giorno e loro giravano il giorno dopo e sono andato sono andato a vederli ho iniziato a guardare a bordo pista a dire cavolo ma sai che andavo da Van den Mark e dice sai che Alex fa con la curva lì in quella marcia tu la fai con una marcia diversa prova a farla come fa lui mi sembra più più veloce e così ho iniziato un po' a parlare con i piloti a cercare di dargli una mano ma così perché perché ero lì semplicemente ero lì a guardare non giravo esatto e è stato bello perché mi hanno chiamato poi dalla squadra la settimana dopo e mi hanno detto guarda c'erano ancora 4 gare di Mondiale Superbike da fare ma i piloti ci hanno chiesto se tutti e due mi hanno chiesto se puoi venire alle 4 ore a guardarli e provare a fargli un po' da coach esatto ed è lì è nata anche tutta la figura del coach e quindi ha iniziato a fare sia da una parte i collaudi e quindi conosco molto bene la moto della Superbike a fare il coach a vedere i piloti a cercare di dargli dei suggerimenti a loro e poi io mi sono anche voluto perché facciamo analisi dei dati analisi video certo e quindi faccio faccio un sacco di cose mi confronto direttamente con gli ingegneri che sviluppano la moto a volte dai video che faccio siamo riusciti a indirizzare lo sviluppo in una direzione piuttosto che in un'altra perché ci siamo resi conto che magari la nostra moto non era un problema dei piloti magari c'era qualche area dove si poteva migliorare la moto e quindi abbiamo fatto pian pianino ho fatto sempre più cose con Yamaha a 360 gradi anche il progetto con i giovani questo Blue Crew che serve per tirare sui giovani una cosa bellissima che fa Yamaha è proprio dai campionati nazionali i monomarchi nazionali l'R3 Cup ti porta su fino alla Supersport 300 se vinci l'R3 Cup hai la possibilità di correre nel Mondiale Supersport 300 poi ti porta nella 600 visto che dalla 600 anche Locatelli è salito in Superbike e ha vinto il Mondiale e chiaramente ha fatto un sacco di podi nel Mondiale Superbike nel team ufficiale ha stravinto esatto ha stravinto e Heigherter anche lui si è vinto si è vinto nel Mondiale e adesso corre in Superbike per noi quindi si cerca di portare sui talenti e questa è una cosa bellissima perché si cerca di portarli su e di creare veramente una filiera di piloti che all'interno di Yamaha da ragazzini potenzialmente da bambini possono arrivare al Mondiale Superbike o addirittura alla MotoGP e questa secondo me è una cosa bellissima che è solo Yamaha a fare un progetto del genere e non lo fa solo con i piloti ma lo fa anche con i team ma anche con i tecnici anche con gli ingegneri con le figure che sono bravissimi che sono fondamentali per la riuscita di un risultato in qualsiasi categoria perché non è solo il pilota è tutte le persone che ci stanno intorno che sono fondamentali è uno sport di squadra questo esatto bravissimo al 100% uno sport di squadra totalmente e l'Andorra se l'è ancora di più esatto sto dicendo questo l'Andorra si è estremizzato il concetto di sport di squadra esatto questa cosa è bellissima quest'anno lavorerai con Jonathan Ria si esatto ha già fatto i primi due test ero con lui la prima volta che ha provato la moto che è scesa ha tolto il casco aveva un sorriso a 32 denti e quindi quello tipo quello di Marquez a Valencia esatto esatto e poi è bello soddisfacente anche è chiaro che devo cambiare la mentalità perché quando lavori da pilota lavori con una mentalità che tu vuoi essere il più forte tutto il resto dei piloti ti devi battere mentre quando lavori da coach devi switchare completamente devi metterti al servizio dei piloti loro sono le star tu sei il coach tu devi cercare di dargli dei consigli per migliorare ma devi la tua parte da pilota deve essere messa completamente da parte perché non puoi dire io farei così io farei così no quello non esiste lì bisogna portargli dei dati oggettivi fargli vedere i dati fargli vedere i video parlare di cose oggettive non parlare io farei perché io farei uno ti risponde sì perché te uno senti un ufficiale superbike e ci sono io quindi chiaramente lavoro anche un po' complesso sotto questo punto di vista ma bellissimo perché lavorare con i piloti come mi ricordo quando abbiamo vinto il mondiale con Toprac per me io non ero sulla moto ma ero agitato come se lo fossi ed è stata un'emozione per me incredibile anche dall'altra parte della barricata come vincerlo quest'anno nel mondiale endurance vincerlo anche da coach è stato bellissimo ma mi ricordo è stato anche emozionante adesso la sua ultima gara a Gerez lui si è fermato io sono entrato in pista ci siamo abbracciati dopo la gara lui col casco in mezzo alla pista è stato penso di averlo visto credo sono momenti bellissimi anche il primo anno da Ruki di Locatelli che ha fatto Ruki dell'anno ha fatto dei podi è tutto è andato fortissimo sta andando fortissimo è bello vedere come cresce che gli dai una mano anche se è solo magari l'un per cento sei parte del risultato ed è bello vedere questi ragazzi così talentuosi che fanno degli step in avanti vedere l'R1 come migliorata dal 2016 ad oggi quando è la prima volta che ci sono salito e tutti come squadra che andiamo avanti ed è quello da soddisfazione quindi le soddisfazioni fortunatamente degli ultimi anni non sono arrivati solo dal punto di vista sportivo proprio da pilota ma anche da a fare questo lavoro sia da collaudatore che da coach questa figura del coach poi che in realtà esiste da relativamente poco saranno una decina d'anni che ci sono sì sì esatto ne parlavamo tempo fa che a tratti viene un po' abusata come posizione invece in altri casi tipo questa appunto che ce l'hai spiegato molto bene è fondamentale ormai al giorno d'oggi per un pilota avere degli occhi fuori dalla pista poi sostanzialmente sì la cosa secondo me più difficile dei coach che vedo che alcuni colleghi secondo me sbagliano è saper stare zitti a volte no perché a volte capita delle volte che tu non devi essere obbligato quando vai a vedere i piloti in pista a dirgli per forza qualcosa perché a volte top rock cosa gli vuoi dire magari che passano due eventi di fila che non ha che fa tutto perfetto non c'è niente da dire non c'è nessun dettaglio da migliorare e questo ci sta e la bravura sta nel sapere stare in silenzio e fare i complimenti e tutto ma non per forza dovrai trovare l'ago nel pagliaio che non c'è se non c'è non c'è non è quello il problema esatto e a volte invece si lavora tanto ed è bello vedere che c'è questo rapporto di strema reciproc con i piloti che si affidano molto a me perché comunque sanno che sono un pilota d'esperienza che comunque sono anche un pilota in attività che la moto la conosco perché la sviluppo e quindi cerco di non dirgli cagate a nastro senza motivo esatto di essere abbastanza preciso di arrivare con dei dati oggettivi non con delle sensazioni perché occhio nudo bisogna dirsi la verità che è difficile vedere tante cose quando hai un video te lo guardi in slow motion hai dati della telemetria e tutto è chiaro che gli strumenti sono un po' diversi rispetto a dire che ho visto secondo me il secondo me cerco di evitarlo completamente si lascia il tempo che trova un po' come quando si correva senza telemetria e poi dice ma io la faccio così esatto esatto quando mi dicevano le prime volte guarda che è pericolo perché quella non mente ma non puoi dire io penso che infatti effettivamente un'altra domanda invece te la volevo fare non voglio entrare nel merito di quanto hai guadagnato tu nella tua carriera perché non è non è questo non c'è ve lo capire però tu che hai visto tanti campionati di differenza c'è una differenza sostanziale tra le varie realtà a livello di rimunerazione per i piloti è un discorso un po' troppo generalizzato mi rendo conto perché tra il primo e l'ultimo non si possono fare però volendolo proprio semplificare sì sicuramente sì ci sono ci sono tante differenze però la cosa bella diciamo è che quando tu vinci dipendentemente da quale categoria e sei un pilota vincente e l'hai dimostrato e chiaramente continui in quella categoria vieni pagato bene quando chiaramente tu inizi a fare dal decimo in poi che sia in MotoGP che sia in Superbike che sia all'italiano è chiaro che i contratti cambiano drasticamente quindi c'è sicuramente una grossa differenza a livello di mondiale tra mondiale Moto2 Superbike e MotoGP tra il vincente c'è una grossa differenza di ingaggi certo però è anche proporzionata al fatto degli ascolti al fatto degli sponsor al fatto dell'importanza del campionato quindi quello secondo me ci sta è sbagliato pensare che uno che corre in MotoGP e fa quindicesimo guadagna di più di quello che vince il mondiale Superbike perché non è così ed è giusto che non sia così perché io penso che gli eroi della Superbike i vari Jonathan Toprak Bautista si meritano di essere parati tanto perché sono i migliori di quello che fanno il Pirro o il Zanetti nel CIV che sono dei mostri sacri del CIV si meritano di essere parati il giusto per un campionato nazionale e più di quello che fa decimo perché è giusto che sia così ed è bello che comunque secondo me queste dinamiche sono abbastanza rispettate nell'ambiente è difficile che trovi il pilota che è vincente in una categoria che viene parato un quarto rispetto a un altro a parte magari il primo anno se uno esplode uno arriva diciamo fa un investimento su se stesso l'anno prossimo non lo so è difficile fare un esempio ma un pilota dalla 600 che ha fatto settimo ottavo per botta di culo si trova nella moto superbike e inizia a fare po' di tutte le domeniche ecco il punto lì poi il primo anno anche se stava facendo po' di tutte le domeniche non può prendere chissà quanti soldi perché aveva contratto l'anno prima però l'anno dopo sicuramente inizia a raccogliere i frutti quindi è meritocratico quantomeno a livello sì penso proprio di sì è chiaro che poi ci sono delle dinamiche che sono importanti per le case costruttrici quindi è chiaro che se ci sono 10 piloti italiani che sono nei primi 12 posti e non si possono prendere tutti i 10 e portarli in superbike o portarli in 2GP perché comunque ci sono già tanti piloti italiani che corrono quindi magari si fa una scelta e questo sono stato vittima tante volte perché gli italiani sono tantissimi come gli spagnoli però ci sta ha senso una casa costruttrice un team deve anche pensare al mercato deve pensare anche a vendere le moto quindi magari se arriva l'americano che sì non ha fatto primo secondo e terzo ma ha fatto quarto vi dica del talento e tutto magari si cerca di prendere l'americano perché ti può dare una visibilità anche c'è c'è è questo si è sempre visto si è sempre visto c'è sempre stato da quando esiste questo sport perché chiaramente il discorso economico è importante e alla fine le gare sono una promozione per vendere poi le moto esatto se non si vendessero moto non esisterebbero le gare esatto non è non siamo non siamo dei maratoneti o dei centometristi questo è uno sport dove la parte economica è fondamentale quindi chiaramente devi le case costruttrici hanno un investimento importantissimo per con i moto GP per con i super bike spendono milioni e milioni di euro ma perché devono vendere le moto e devono dimostrare che la loro moto è la migliore la più bella la più veloce la più affidabile a seconda di tutti i campionati ma perché le devono vendere e qua si trova il senso dell'endurance effettivamente sì è per quello che per i giapponesi è così importante l'hanno inventato loro ed è per quello che è così importante correre in endurance perché non l'avevo mai vista così effettivamente era una gara di durata per me no effettivamente no cioè c'è un senso molto più profondo e io penso anche per quello che Ducati non è mai stata convolta direttamente nella storia dell'endurance che io sappio perché proprio per questo motivo Ducati è sempre stata la moto famosa per essere super sportiva super veloce ma non troppo affidabile e quindi secondo me sarebbe bello vedere se si mettessero in gioco anche loro a maggior ragione a maggior ragione adesso che hanno comunque un V4 che è una moto che sembra affidabile che sembra funzionare bene che va forte sì c'è un team privato ma non sono mai stati direttamente coinvolti nel senso con un team ufficiale come magari facciamo noi fa Honda fa Kawasaki con team BMW con team direttamente ufficiali ah ok per questo sì 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 no sarebbe bello per me sarebbe sarebbe bello chiaramente più case costrettrici ci sono più è difficile la sfida più più onore hai quando vinci un mondiale certo tutto più bello allora in chiusura tu quest'anno hai vinto il campione del mondo Endurance l'hai vinto nel 2016 17 17 e la coppa del mondo nel 2007 quindi sei tre volte il campione del mondo questo è che fai l'anno prossimo? l'anno prossimo continuiamo con lo stesso piano perché squadra che vince non si cambia con i miei due compagni di squadra siamo anche se loro sono giovani siamo la squadra che è insieme più longeva nel mondiale Endurance da più anni che siamo insieme e ci conosciamo benissimo ormai c'è fiducia reciproca c'è rispetto sappiamo i nostri limiti dove invece chi è il pilota giusto per il momento giusto è tutto e quindi è perfetto continuiamo con la stessa squadra e continuerò a fare il collaboratore nel mondiale Superbike e il coach con la nuova sfida di Jonathan Rea che arriva e anche quello è emozionante lavorare e stimolante con un sei volte campione del mondo quindi la fare per tutto per tutto il campionato insomma compatibilmente con le gare sì 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 è chiaro che sono bell'impegnato perché ci sono tutte le gare del mondiale Endurance test ah e poi mi dimenticavo la chicca la ciliegina sulla torta che era 200.000 di Daytona correrò 200.000 di Daytona quest'anno sempre col team sempre col team di Art esatto sì è stato un premio diciamo che ci ha dato il titolare del team per aver vinto il mondiale che bellezza ci porta tutti e tre Daytona esatto si corre col 600 che è una vita che non salgo su 600 quindi non sarà facilissimo infatti sono a dieta adesso sarà un Natale tristissimo per me perché devo cercare di perdere peso ma questo è un po' da Daytona è un'altra di quelle gare mitiche storiche pazzesche mi piacerebbe so che sarà difficile vincerla ma correrci già è un dire l'ho fatta la mia carriera esatto mi mancava visto che non ho corso in abbastanza categorie bastava così esatto le devi andare a cercare però tu le gare che non hai fatto esatto esatto raccontaci qualche episodio particolare dell'Endurance se hai un aneddoto o una gara particolare beh diciamo che in questi anni ne abbiamo viste di tutti i colori nell'Endurance perché sono gare talmente lunghe che succede veramente qualsiasi cosa la gara più particolare che ho fatto è che quella è stata forse più strana e dopo hanno dovuto cambiare regolamento a causa mia è stata l'autore di Seppang del 2019 che è stata una gara che hanno avuto un risalto incredibile perché l'abbiamo fatta a dicembre quindi in un periodo di non gare e quindi chiunque ha guardato c'era una gara di moto chiunque l'ha guardata quella gara lì esatto mi ricordo di aver ricevuto anche direttamente i complimenti da Valentino quindi è stata qualcosa di emozionante e praticamente gara posticipata perché c'era pioggia incredibile parte la gara accorciata tre ore e mezza quindi le dottore sono diventate tre ore e mezza che sono comunque una bella gara mi ricordo che c'erano morbidelli a correre c'erano vande marche c'erano comunque tutti i piloti del mondial endurance tanti piloti che corrono a suzuka giapponesi asiatici quindi piloti di livello e partiamo e al primo giro la moto si spegne ultimo problema elettronico la moto riparte senza controllo di trazione senza cambio elettronico zero elettronica zero elettronica che anche fare un sesta prima adesso schiacciando la frizione ogni volta queste frizioni durissime che ci sono perché c'è il bleeper certo è diventato un problema perché ti viene un avambraccio così potremmo essere più abituali esatto e ci sono due sesta prima sepang quindi non il massimo faccio la prima ora riesco a recuperare fino al secondo posto quindi benissimo mi fermo mi ricordo di avere esultato al box perché ho finito la gara no praticamente sapevo che i miei due compagni di squadra avevo fatto il secondo e il terzo stint e io basta avevo finito un incubo guidare senza controlli si è un bagnato e tutto nel frattempo la pista si stava un po' asciugando mi fermo il team manager mi fa continui tu mi fa proprio cioè secco io no no così esatto con la stessa faccia che fa da te no e invece poi ci ho pensato un attimo quelle frazioni di seconda mentre cambiava le gomme rifornivano devo devo vado ok continuo riparto riparto per la seconda ora faccio tutta la seconda ora finisco primo finisco primo a quel punto lì finito finito lo stint entro in corso a box entro se sono col pit limit e risulto dico sì c'è proprio un attenzione che se ne vado a duri di fila che sei moto tra l'altro non mi avevano dato da bere non mi avevano pulito la visiera del casco niente col momento concitato lì così a spang fa caldo esatto c'è un'umidità sì esatto finisco scendo mi fa tu come tu ho detto no io faccio no da regolamento non si può dobbiamo devono essere almeno due piloti a fare la gara mi fa ho controllato il regolamento si può sono risalito ho finito alla fine ho fatto tutta la gara io sono tre ore e mezza di gara e ho vinto la gara da solo ed è stata una cosa veramente pazzesca perché non era mai successo prima e non vi succederà mai più perché hanno poi cambiato il regolamento hanno aggiunto infatti che una gara anche se accorciata almeno due piloti devono giustamente direi che è una scelta giustissima sono felicissimo l'avresti proposto te esatto esatto non devi dare di fare un'altra gara interna esatto visto che sono in safety commission ormai da anni e quello sì sì sicuro e quindi diciamo che è stata un'emozione pazzesca perché ero in trans ormai no perché ormai la stanchezza c'era fisica mentale però era come se guidassi alla playstation cioè andava quasi da sola esatto da sola e mi ricordo di aver anche rischiato parecchio per un misunderstanding con il team negli ultimi giri perché continuavo a mettere sulla tabella go e il tempo sul giro solo che io il tempo sul giro non ce l'avevo più sul cruscotto perché da quando si era spenta la moto elettronica non c'era quindi io vedevo e non avevo la più palida idea su incondizioni miste di quanto stavo girando sull'asciutto lo sai tempi di riferimento incondizioni miste non lo sai e io capivo che dovevo spingere immaginavo che Maria Morbidelli era lì dietro che stava spingendo mi stava recuperando io ogni giro vedevo go 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 vai ho preso dei rischi incredibili invece volevano dimmi di andare ad un tempo sul giro più piano in modo che così facevo un giro in meno go su quel tempo cioè vai a quel tempo che però tu non potevi vedere esatto quindi è stato un incubo spinto come un assassino tutta la parte finale di gara mi ricordo la felicità di quando poi sono arrivato che cavolo ho vinto quella gara lì da solo una gara di Andras da solo in Malesia sì in Malesia è stata una cosa veramente particolare bella ed è stato proprio pochi giorni fa l'anniversario perché era il 14 dicembre alla gara e mi è venuto in mente proprio per quel motivo lì che in tanti sui social hanno condiviso questa cosa sì sì quell'evento Morbidelli con che correva? Morbidelli correva come il nostro compagno di squadra con il team di arte quindi aveva la stessa moto era Morbidelli Van den Mark e Sierin ah sì solo che loro avevano perso da subito perché Van den Mark era caduto subito al primo stint e quindi dopo erano in recupero quindi sapevo che stavano recuperando ma non sapevo quanto e come poi alla fine sì sì ero tranquillo sì sì ero tranquillo il primo ma è stato un bel evento te hai presente le piste le hai fatte tutte? le più tante sì ma poi ho corso ho avuto la possibilità di correre in moto America a Laguna Seca non solo con la moto GP a Laguna Seca che era una follia ma anche il Brands Edge che dicevamo ci sono un sacco di piste Phillip Island un sacco di piste in giro per il mondo pazzesche ho avuto la fortuna che correndo in tante categorie ho visto anche tante piste a proposito di categorie ci siamo scordati di un pezzetto dell'EBR esatto quella è stata anche quella è stata una moto veramente particolare una moto con i freni perimetrali intanto è una roba assurda io ne avevo una io ho avuto una Buell ho avuto una Buell con il perimetrale che aveva dei grossi limiti sulla strada non me lo so infatti l'avete tolto voi sì l'abbiamo tolto la cosa bella ho ancora il raccord della pista in una pista in America che si chiama Jennings e c'è ancora il raccord della pista il primo test che avevo fatto è ancora lì con i perimetrali esatto ci tornerò quest'anno prima di andare a Daytona con 600 sarà una bella una pista strana dove c'è un laghetto con i coccodrilli all'interno della pista quando entri in pista dell'attenzione i coccodrilli giustamente perché c'è una pista senza corde senza niente però ci vanno a fare i test quelli del Moto America sì era stata una pariettesi strana e quello era stato il team che poi aveva chiuso che anche loro lì erano falliti avevano chiuso a metà stagione però è andato da Genesio ad Altea 2015 bravo nel 2015 che mi aveva salvato Genesio in quell'occasione però era una moto strana mi ricordo in Thailandia la seconda gara dell'anno non avevamo corso perché si faceva Australia e poi Thailandia in Australia avevano rotto totalmente tanti motori siamo arrivati in Thailandia ne abbiamo rotti altri due o tre nelle prove libere e allora col tutto lì niente non avevano finito i motori per fare la gara sì però ero riuscito a fare anche lì mi ricordo nei test in Australia prima della gara avevo fatto tipo lo settimo ottavo tempo con quella moto lì che aveva 30-40 cavalli meno degli altri infatti mi ricordo anche un tweet di Paul Denning che è l'attuale titolare del team ufficiale Yamaha e Superbike che diceva ok bello che Jonathan ha fatto il primo tempo e tutto ma vogliamo parlare di cane perché ha fatto sesto settimo con quella moto infatti ve lo ricordo ancora è stato è stato bello ma era una moto molto particolare non fatta per le corse ma che si guidava bene molto leggera bella da guidare ma mancava un po' di cavalli un bicilindrico era? ah beh si si era un bicilindrico quelli diciamo i motori Harley si si esatto esatto però pensare di correre in un superbike con una con una Buell eh no ma infatti mi ricordo che poi era Eric Buell Racing che BR bravissimo 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 che insomma avevano ricomprato adesso non so bene com'era la di noi tra l'altro parlando di Harley Davidson una gara che forse non so se l'hai mai vista hai visti quando i Baggers quelli bellissimi cavallo la prima volta sono andato io ero lì proprio a Laguna Seca a correre la prima gara in assoluto che loro hanno fatto ero lì a Laguna Seca a correre per il Moto America e la prima gara in assoluto che hanno fatto ho visto questa categoria e ho detto che spettacolo bellissimo devo spingere Yamaha a fare una moto del genere così posso correre con un bagger Yamaha di quelli giusti e andiamo lì a correre c'è Ben Bostrom si si ma ci sono un sacco di piloti storici epici con i piloti invece esperti americani e tutto che corrono è bellissimo una gara sono belle da vedere proprio una gara americana è una cosa che in Italia però io correrò a Laguna Seca con uno di quei mezzi lì lo farei immaginerei pure in Italia sarebbe divertente ma questo è delle mezze superbike e tu vedi sospensioni olinx freni Brembo tutto full 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 però poi stanno sempre si hanno anche i cavalli quelle moto lì eh si che i motori sono grossi si si hanno una cilindrata importante non so esattamente non lo so ma erano 1.6 come la formula 1 1.6 esatto 1.6 1.6 1.1 esatto è pazzesco mi sono una volta ho detto questa è la nuova categoria no no te potresti farla ti ci vedo poi le dimensioni poi soprattutto guarda ti dico capirassi l'occasione è una di quelle situazioni che direi assolutamente sì perché super moto invece ho smesso diciamo che allenarmi in questi anni sono andato talmente tanti in moto sull'R1 in generale che ho smesso l'allenamento con enduro super motard cross tutte queste cose perché alla fine sono sempre in moto quindi sono contento così quando sono a casa non vado diciamo in moto perché faccio già tanti chilometri così già solo una 24 ore per recuperare ci vuole un po' di tempo figuriamoci poi per allenarsi una volta però si usava tanto il super motard per i piloti di velocità cosa c'è adesso? eh ma perché ci abbiamo preso troppo la mano io mi ricordo iniziata con prendevi una moto da cross ci mettevi due slick indurrivi un po' le sospensioni va bene poi inizia a metterci freni poi inizia a metterci le sospensioni giuste inizia a cambiare i forcelloni si trasce un control cambi elettronici gomme ogni turno perché poi è diventata una competizione alla fine ci allenavamo tutti andavamo tutti nelle stesse piste nei weekend e ti ritrovavi e non potevi andare più piano di quell'altro e quindi vai fai la sospensione l'ultimo modello metti i freni l'ultimo modello ed erano delle super bike praticamente super motard però costava un patrimonio e tanti hanno smesso anche per quello anche se di fatto era bellissimo guidare io ho parlato cioè Manuel Bastianelli due campioni italiani una gara pure da World Cup del Mondiale che se non erro fa l'italiano super motarde con il 4 e mezzo quest'anno io più volte sono andato ho girato con lui in situazioni c'era ne so Foggia Giuliano a Latina al Sagittario ad allenarsi con i motarde stavamo con i motarde e comunque si gira per girare e Gianladdi c'è un sacco ok vanno avvicinandomi un attimino all'italiano capendo bene com'è l'italiano in confronto era stare fermi a tutti gli effetti cioè rispetto a come viaggiano veramente quelli del mondiale adesso non conosco bene il livello dell'italiano motarde ma anche per i regolamenti mi ricordo che anche io quando andavo a girare a volte andavo più forte di quelli del mondiale ma semplicemente perché loro avevano delle delle gomme normali avevano delle moto che erano limitate da regolamenti invece quando noi piloti del mondiale andavamo ad allenarci con i motarde non c'erano regolamenti più soldi erano open nessuno ci controllava erano proprio lì per vai giri e quindi c'era di tutto e di più però cambiava tanto io mi ricordo 10-15 anni fa è capitato una volta a Latina addirittura c'era il mondiale supermodo c'erano degli uffi c'era Cherrier sì sì Cherrier con il TM c'era lui comunque erano quei tempi lì vabbè io ero lì a girare e facciano paura oggettivamente ma quello che li vedi girare adesso dopo 12-15 anni con l'evoluzione di cui stai parlando te perché probabilmente in supermoto quello è successo si è arrivati a dei a dei livelli anche di performance è diventato un altro sport infatti si guidava ancora col piede fuori adesso si guidava col ginocchio ed è impressionante mi ricordo un motor show un qualcosa del genere viaggi rossi con i primi motarde come dici una moto da cross con due gomme da strada esatto quindi non fai neanche flat non fai no ogni tanto faccio un po' di enduro con gli amici ma non faccio mi piace il trial e tutto però sinceramente ci vado poco proprio per questo motivo mi capita più spesso di divertirmi quando vado magari con i ragazzini del Blue Crew a selezionarli così giriamo insieme con le 300 e anche quelle sulle piste piccole per me è super divertente perché la moto magari non mi diverto tanto se andiamo a Misano Mugello così ma quando andiamo sulle piste piccole è bello cioè divertirsi alla fine poi l'impostazione di guida è come una moto da corsa guida è più simile e ti diverti poi quando vai con questi ragazzini che fanno il mondiale vanno forte forte mi ricordo due anni fa siamo andati i Locatelli in Spagna a girare con loro a selezionarli c'erano anche dei piloti del mondiale della Super Sport 300 ci hanno dato del filo da torcere è vero abbiamo avuto e poi è bello gare grupponi di 15-20 piloti e anche quando faccio le prove tutti insieme scia e tutto ogni millimetro conta sportellate è divertente è come durante insomma durante l'inverno con le 12 pollici si ritrova i pilotini quelli che poi sono leggeri su quelle moto vanno 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 veramente ed è bello perché all'epoca dei Motard non c'erano queste moto qua adesso ci sono e costano molto molto meno sono molto più economiche anche da riparare tutto e quindi è diventata forse questa un po' la Modus un R3 300 così per allenarsi secondo me si è la cosa che costa più alla portata di tutti costa poco e ti diverti tanto tanti piloti si allenano comunque anche Ale del Bianco è sempre stavo dicendo Ale esattamente ho sentito qualche giorno fa aspettiamo anche lui qua deve venire lo chiamo Ale ti aspettiamo ti aspettiamo guarda 3-4 giorni fa ci sono sentiti anche lui ha fatto l'esperienza nel Mondiale Endurance quest'anno ha provato ha fatto l'ultima gara al Bulldog mi è piaciuto moltissimo perché è innamorato perché o lo ami o lo odi sono arrivati sei matto a farti 24 ore sulla moto ma vai a correre con la moto invece Ale è uno di quelli che gli è piaciuto è uno di quei piloti secondo me vecchia anche se è molto giovane vecchia generazione assolutamente assolutamente per cui Alessandro ce lo portiamo ti chiedo una cosa Simone Saltarelli loro che cosa hanno vinto dell'Endurance allora ci sono due categorie che corrono insieme nel Mondiale Endurance c'è il Mondiale Endurance proprio che è l'IWC che è quello che facciamo noi quindi ci sono tutte le squadre ufficiali e tutto e poi c'è la categoria Stock che hanno un regolamento diverso e loro hanno vinto la categoria Stock loro non corrono a Suzuka sono solo quindi tre gare non quattro e loro hanno insieme a Gamarino e a Calia hanno vinto hanno vinto la categoria Stock che è una categoria anche quella molto combattuta è difficile perché è monogomma quindi non hai diciamo costruttore di gomme diverse hanno tutte le stesse gomme è difficile perché tipo un anteriore lo devi tenere per tre ore di fila al posteriore per due ore quindi a volte se ti capita lo stint col posteriore usato e l'anteriore di tre stinte è un miracolo che c'è stare in piedi in quella categoria lì e non hanno gli sganci rapidi quindi ci mettono più tempo a fare il cambio gomme e quindi sì è un regolamento un po' diverso un pochino più Stock la performance del motore alla fine è quella perché anche noi corriamo con dei motori Stock per fare 24 ore se no non durerebbero però hanno hanno vinto quella categoria lì è bello un equipaggio tutto italiano che vince e soprattutto sono molto contento anche per Gamarino che l'anno prossimo ce l'avrò come diretto concorrente in EWC perché è passato dal team Kawasaki ufficiale ah grande quindi un altro italiano che comunque sta facendo carriera nel mondiale Endura si sta facendo strada ma infatti tutto questo spazio mediatico che ha preso il mondiale Endura soggettivamente ha portato tanti piloti a particare perché comunque chi mi viene in mente o ha corso o corre penso anche a Kevin Calia eh sì a Kevin Manfredi è un campionato che sta spingendo tanto sta crescendo tanto fa un sacco di spettatori ed è bello anche da pilota vedere correre con le tribune piene è certo quella è una figata e ci sono un sacco di team calcola che alla 28 ore di Le Mans ci sono 60 equipaggi partenti è una cosa pazzesca quindi vuol dire 60 team partenti sono 180 piloti provenienti da tutto il mondo che corrono insieme per 24 ore è una roba è figo è figo porta un sacco di appassionati di gente poi al pubblico piace venire a vedere perché di notte ci sono concerti non è che stai lì al freddo a guardarti le moto che girano senza capire niente cioè ci sono un sacco di eventi insieme di notte la sera e tutto quindi la gente viene si diverte e sei passata sei passata due giorni a vedere le moto ma poi è un'istituzione proprio è un momento mi ricordo la prima volta che sei sulla via di partenza ti mettono tutti in fila alla 24 ore di Le Mans prima della partenza quella di corsa classica insieme a americana partenza endurance si chiama proprio e lì ti mettono tutti in fila tribune piene passano le frecce tricolori la pattuglia acrobatica francese e tutti cantano l'inno francese io non sono francese non so l'inno francese ma quando inizi a sentire tutte le tribune che cantano all'unisono con i fumogini tutto l'inno prima della gara è una cosa che è da pelle d'orca adesso solo a parlare è veramente emozionante e poi ti ritrovi da un momento all'altro finissi di cantare l'inno vanno via tutti ti ritrovi sulla via di partenza dall'altra parte della pista con la moto lì pronta accesa per farla partire e devi correre partire sali e sai che hai 24 ore davanti a te di moto 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 che è impegnativo bellissimo bellissimo io ti ringrazio tanto per questa giornata insomma questa chiacchierata e ci sentiremo sicuramente durante la stagione magari se troviamo il modo anche di vederci per aggiornarci un pochino su quelli che sono stati gli eventi noi ti seguiamo grazie mille è stato un piacere e a presto alla prossima grazie ci vediamo alla prossima ciao ciao grazie per aver seguito questa puntata di Razers se ti è piaciuta e vuoi ascoltarne altre puoi iscriverti al canale youtube o seguire questo podcast sulla tua piattaforma preferita per non perderti i prossimi episodi a presto